Ammirate la grande sala della magia! Dove coloro che hanno del talento studiano per diventare grandi maghi! Ma non tutti sono pronti alle responsabilità che ne derivano! Io sono responsabile! Sì, anch'io! È una bugia! Sì, è una bugia, ma me ne assumo tutta la responsabilità! Bene, bene, molto responsabili! Ora per cominciare dovrete indossare queste mantelle da apprendista! Wow! Ehi, ma questo è un vestito! Sì, che bello mi piace! È così morbido! Così mi sento più a mio agio! Bene, bene! Dunque, per ogni singolo potere che acquisterete riceverete una piccola stella sbilla come queste! La stellona finale vi darà il rango di stregone supremo! Ti avverto, Jake! Io conquisterò quella stellona! Quando cominciamo? Primo livello, polvere manzia! Sì, polvere manzia! Qualunque cosa sia! Dammi, 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 dammi! Per ricevere questo potere dovrete prima mangiare le scopi! Va bene! Aspetta! Ma fa schifo! Non riesco a mangiarla! Io ci riesco! Attenzione! Vai, scopetta! Capperi! Ti ha dato una stella! Osserva i miei poteri, Finn! Aspetta! Usiamoli insieme, questi poteri! L'ultimo boccone! Forte hai la stella anche tu! Siamo polvere manziani! Non esce niente! Ci siamo cascati come due rape! Bufo, ci hai preso in giro! È un potere che non combina niente! Calmati, umano! Non essere isterico! Non ti sei accorto che la polvere manzia è dentro di te? Abbi fede! Quello lì l'ho fatto io! Quindi, ora comando... Sì! Adesso comandi le particelle di polvere! Puoi anche capire le loro emozioni! Ad esempio, questa particella è scontenta di come va al bagno! Capperi, che potere grandioso! Ehi, non è solo grandioso! È fantastico! Bingo bango! È così che ti voglio, fratellino! Bene! Siete pronti per un altro potere? Ce ne sono altri! Moltissimi altri! Quelli del livello due! Il potere di governare le ombre! Vedete qualcosa? No, io niente! Per poter acquisire la padronanza delle ombre, infilate le mani in questa scodella! Quale scodella? No! Copri gli occhi! Ma va bene, uffa! Infilate le mani in questa scodella dei bulbi oculari! Bulbi oculari! Tranquillo, amico! Sono acini d'uva! No! Ti sbagli! Sono vere bulbi oculari! Bel fatto! Avete toccato gli occhi senza alcun timore! Un po' di più! Un po' di più! Un po' di più! Grazie a tutti